Gia luna noci, alvo passati 8 ore, polisti avevano informati con persona una manottura di cortè. Nel giudice, polisti avevano nota che si tratta di un addiccio, qualcosa di maltrata di un altro addiccio, e addiccio qui si tratta di maltrata di un brand un po' di nome drama, lo si tratta di maltrata di un degenerato di flint, però nel brinamento, se quell'o come se comprende di un altro addiccio non è nel sito, che Flint lo ha irritato da un genio che ha ricevuto di un addiccio a quello che conoscevo il nome Drama la polizia è nel sito, c'è un'ambulanza, e arriva l'imagine per mirare il momento che il parametico non è arrivato, e il mio padre è addiccio, e dopo un secondo, un minuto, per mirare il addiccio in Atlanta, e c'è 30 ambulanze come se comprende, il lo ha ricevuto 3 golpi fuerti, il palo a batti di baseball, arriva su cabeza e dame di su cara grazie 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 grazie